Era riuscito a scappare dopo un folle inseguimento in autostrada il cittadino albanese sottoposto a fermo. Lo scorso 31 marzo, nell'ambito di una maxi operazione antidroga, si era dileguato facendo perdere le proprie tracce al termine di un inseguimento tra una pattuglia delle fiamme gialle e un'auto di trafficanti. Inseguimento in autostrada che si era concluso a Montebello Vicentino e che aveva portato alla luce nel bagagliaio 12 chili di stupefacente tra marijuana e Ashish. Mentre il conducente era stato bloccato, il passeggero si era dato alla fuga nelle campagne circostanti. In seguito alle indagini, i finanzieri hanno identificato il fuggitivo, lo hanno individuato in provincia di Padova, a Selvazzano Dentro, in un immobile nella disponibilità di una donna, dove aveva trovato accoglienza. Nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato 9.000 euro in contanti e tre telefoni cellulari, oltre alla felpe e al di scarpe da ginnastica, corrispondenti a quelle indossate dall'indagato al momento della fuga, immortalate dalle telecamere di sorveglianza del casello autostradale di Montebello. L'albanese, portato in carcere a Padova, dovrà rispondere di detenzione e trasporto a fini di spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente, nonché per l'ipotesi di reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale finalizzata a sfuggire all'imminente arresto.